Una banda specializzata in rapina ad anziani, tre i giovani coinvolti, uno di quali minorenne, ad arrestarli i carabinieri del comando provinciale di Pescara dopo la denuncia del fratello della vittima, raggirato inizialmente ed in seguito picchiato. La storia era iniziata il marzo scorso, l'uomo, un disabile, veniva regolarmente derubato della sua pensione di invalidità, 280 euro, spesso una parte, altre volte l'intera somma. Ed è proprio questo dettaglio a fare insospettire il fratello, poiché la vittima, minacciata di ritorsioni, non aveva chiesto aiuto. Questa è una cosa veramente estremamente squallida, sono tre persone che si sono così, ecco hanno acquisito la fiducia di questo disabile, lo hanno circuito e sistematicamente negli ultimi 3-4 mesi, nel momento in cui gli arrivava la pensione che erano poche centinaia di euro, non esitavano anche a picchiarlo, anche in maniera molto violenta, per portargli via quel poco che aveva ogni mese. Quando poi il fratello disabile, insomma, gli ha raccontato quelle che erano state le vicissitudini dei mesi precedenti, è venuto subito il carabiniero a denunciare il fatto. Noi abbiamo aspettato il giorno di consegna della pensione e quando sono andati a prendere i soldi, oltre ai soldi hanno trovato anche i carabinieri. A Pescara nell'anno in corso sono 23 i casi di raggiri ad anziani, spesso le vittime ricevono telefonate nelle quali sedicenti, forze dell'ordine, avvertono di un familiare in pericolo e del bisogno di denaro per aiutarle. Le vittime prese dal panico cadono nell'inganno e così oggi, alla luce dei dati, parte un accorato appello sulle accortezze da avere per non subire raggiri, soprattutto verso gli anziani. bisogna denunciare innanzitutto ogni cosa che accade, bisogna fare attenzione a telefonate strane che pervengono a casa con richieste di soldi, non vanno dati, non è con i soldi che si risolve qualunque tipo di problema. Telefonate ai carabinieri, telefonate alle forze dell'ordine in generale, fate anche più chiamate, pretendete personale indivisa che venga a casa, solo così potete essere sicuri di avere di fronte un vero carabiniere.